Buonasera e bentrovati dal telegiornale Prato 7, il nostro rotocalco settimanale attraverso il quale rivediamo i principali fatti avvenuti a Prato e provincia negli ultimi sette giorni. Ripartiamo da lunedì 27 giugno quando vi abbiamo dato una notizia di cronaca, condannato a 5 anni e 3 mesi il medico Novax. Gli veniva contestato di aver rilasciato 69 Green Pass senza aver somministrato i vaccini anti-Covid. È stato condannato in rito abbreviato ad una pena di 5 anni, 3 mesi e 10 giorni Federico Calvani, il medico di famiglia della montagna pistoiese, accusato di aver simulato la vaccinazione anti-Covid a decine di persone, tra cui diversi Novax provenienti da altre città come Prato, Pistoia, Lucca e Firenze, interessati ad ottenere il Green Pass. Falso ideologico, peculato e truffo ai danni dello Stato, i reati contestati al medico, che è stato sospeso dalla Asla Toscana Centro e rischia la radiazione dall'albo. Le indagini partirono dalla nostra città. Furono infatti i carabinieri di Prato a ricevere la segnalazione di una donna preoccupata dal fatto che il figlio si potesse ammalare di Covid dopo aver ottenuto la certificazione pur senza essersi mai vaccinato. L'inchiesta dei carabinieri di Prato e del Nassa di Firenze, guidati dalla procura di Pistoia, portò alla contestazione di 69 Green Pass rilasciati senza aver effettuato le dovute vaccinazioni anti-Covid. Oggi, nel combinare la pena, il Tribunale di Pistoia è andato oltre le richieste del Pubblico Ministero e ha stabilito anche il pagamento di una provvisionale di 20.000 euro per ciascuna delle parti civili che si erano costituite, Ordine dei Medici, Asla Toscana Centro e Ministero della Salute. Il legale di Calvani, l'avvocato Stefano Panconesi, aspetta di leggere le motivazioni della sentenza, 90 ai giorni per il deposito, ma preannuncia fin da ora ricorso in appello. Sempre lunedì 27 giugno, una notizia spiacevole perché è stato rubato per la seconda volta il tandem speciale di Edoardo. Dopo il primo furto si mobilitò la città. I ladri hanno forzato il garage dell'abitazione dove il ragazzo autistico vive con la sua famiglia. È stato rubato per la seconda volta in quattro anni il lag bike, il tandem speciale di Edoardo Savoia, il ragazzo autistico pratese che già il 2 aprile 2018, nella giornata mondiale dell'autismo, aveva subito il furto di questo strumento, per lui sinonimo di gioia e libertà. I ladri sono tornati a visitare il garage dell'abitazione della famiglia in zona Coiano e hanno portato via anche una costosa bicicletta elettrica. I genitori di Edoardo hanno scoperto il furto stamattina e hanno fatto denuncia ai carabinieri che hanno compiuto un sopralluogo sul posto, constatando i segni di scasso e alcune monomissioni alle telecamere di videosorveglianza. Umberto Savoia, padre di Edoardo, ha rivolto anche un appello sui social pubblicando l'immagine del tandem rubato e chiedendo aiuto a chiunque possa dare indicazioni per ritrovarlo. Quattro anni fa fu la polizia a rintracciare il tandem e a restituirlo a Edoardo. Dopo quel primo furto, a Prato si aprì una vera e propria gara di solidarietà al motto di Io sto con Edo. In tanti parteciparono alla raccolta fondi e furono acquistate altre biciclette Ag Bike a disposizione dei ragazzi autistici. Chiunque possa aiutare a ritrovare il tandem di Edoardo può chiamare o mandare un messaggio al numero 348 65 23 155. Scritte Novax all'ospedale e al centro. Pegaso e ignoti hanno imbrattato le pareti dei due edifici con scritte realizzate con una vernice spray rossa. L'episodio è avvenuto martedì 28 giugno. Scritte Novax con vernice spray rossa sono comparse stanotte sulle pareti esterne dell'ospedale Santo Stefano, un blitz che i ignoti hanno compiuto tra le 3 e le 5 del mattino replicando il gesto al centro vaccinale Pegaso di Via Galcianese, anch'esso come l'ospedale, nei mesi scorsi luogo di degenza per i pazienti Covid. Nel mirino dei vandali è finito anche il ministro della salute Roberto Speranza, a cui sono stati rivolti pesanti insulti. L'azione arriva a poche ore dalla sentenza del Tribunale di Pistoia, che ha condannato ad una pena di 5 anni e 3 mesi il medico Novax dell'ASL Toscana Centro, il quale nei mesi scorsi aveva simulato di effettuare il vaccino per far avere il Green Pass a 69 persone che non ne avevano diritto. Un episodio molto grave, le scritte vandaliche, un atto inqualificabile da condannare fermamente che offende i pazienti ricoverati o che lo sono stati, il personale sanitario che si è impegnato con costanza e con grande sforzo nella lotta contro la pandemia, così ha commentato il direttore generale dell'ASL Paolo Morello. L'ASL Toscana Centro ha fatto denuncia alla polizia, cui sono state consegnate le immagini di videosorveglianza dell'ospedale. Sicuramente è un gesto che ha amareggiato tutti noi, ma sinceramente prima di tutto anche nel rispetto dei pazienti che hanno avuto o che stanno ancora lottando contro il Covid e dei loro parenti, tutto quello che ha ovviamente in maniera innegabile comportato la pandemia negli ultimi due anni e che ancora stiamo combattendo, sicuramente per gli operatori sanitari che si sono sempre impegnati nella lotta contro il Covid. Secondo lei è necessario un potenziamento delle misure di sicurezza dopo questi episodi? Non credo che sia necessario un ulteriore potenziamento, credo che sia necessario monitorare e osservare che ciò non si ripete. In questo momento ritengo che la situazione non sia stata di pericolo e che quindi non sia necessario agire in questo senso. Chiaramente monitorizzeremo in maniera ancora più stretta, quindi intensificheremo i passaggi che sono concordati e sono date alla direzione sanitaria e alla vigilanza e questo ci permetterà di osservare quello che accade. Ancora cronaca, tre grossi spacciatori nella rete dei carabinieri, sequestrata droga per 100.000 euro. Secondo gli inquirenti, in questo momento la domanda di chetamina a Prato è in aumento per il doping degli operai cinesi. Tre spacciatori arrestati e chetamina sequestrata per un valore complessivo che sfiora i 100.000 euro. È il bilancio di due diverse operazioni del nucleo investigativo dei carabinieri di Prato, compiute negli ultimi giorni attraverso altrettante perquisizioni in appartamenti di via Pistoiese. Il primo blitz è scattato venerdì alle 3 di mattina e ha consentito di catturare un trentenne cinese proveniente dalla Spagna che da due mesi viveva a Prato. Nella sua casa i militari hanno sequestrato 233 grammi di chetamina, suddivisi in quattro confezioni di frutta secca, e 38 pasticche d'ecstasy, oltre a 100 astucci di plastica per la confezione delle dosi e una bilancina elettronica. La seconda perquisizione è scattata stanotte in un altro appartamento di via Pistoiese, in uso ad una coppia di coniugi cinesi, entrambi disoccupati e irregolari in Italia. Nella casa i carabinieri hanno sequestrato droga per un valore di oltre 85 mila euro, in particolare 1,4 chili di chetamina in due buste sottovuoto e altri piccoli quantitativi di shabu e chetamina, sequestrati anche 500 astucci di plastica ed una bilancina di precisione. La coppia era arrivata tre mesi fa dalla Spagna, da moglie e marito facevano vita tranquilla e riservata senza dare adito a particolari sospetti. La vicenda mette in evidenza come in seno alla comunità cinese di Prato si stia creando un turnover tra vecchi e nuovi spacciatori che per tentare di passare inosservati approdano in Italia, giungendo da altri stati dell'Unione Europea. Altro fenomeno segnalato dagli inquirenti è l'intensificazione dell'approvvigionamento di chetamina in occasione dell'incremento della produzione nelle confezioni cinesi, dove in questo momento si lavora i capi di abbigliamento per il prossimo autunno-inverno e dove la chetamina sarebbe utilizzata per sopportare 12 ore in interrotte di lavoro alle macchine da cucire. Continuiamo con la cronaca. Mercoledì 29 giugno, 10 rapine da aprile è stato arrestato e tre denunce. I malviventi incastrati dalle telecamere di videosorveglianza. L'operazione è dei carabinieri. Scoperti dai carabinieri gli autori di 10 rapine commesse a Prato dall'aprile di quest'anno. Denaro, cellulari e altri effetti di valore. Questi gli obiettivi dei rapinatori che agivano in varie parti della città, in orari spesso diversi e imprevedibili, senza una specifica pianificazione dei crimini, prendendo di mira sempre i cittadini di nazionalità cinese. Una persona, un 39enne nigeriano, è stata arrestata con l'accusa di rapina continuata, nonché aggravata in alcuni casi anche da lesioni in danno delle vittime. Indagato in stato di libertà anche un connazionale di 27 anni. La loro identificazione è stata il risultato di un lungo e certosino lavoro che i carabinieri hanno svolto analizzando centinaia di ore di registrazioni delle immagini riprese dai circuiti di sorveglianza cittadini e privati, comparando i dati dei diversi eventi, ricostruendo percorsi itinerari utilizzati dai rapinatori. Determinanti per le indagini sono state anche alcune perquisizioni svolte nei confronti degli indagati, durante le quali sono stati ritrovati abbigliamento ed effetti personali che comparivano indossati dai rapinatori in alcune immagini di videosorveglianza dopo le rapine. Risolutiva è stata anche la collaborazione con la comunità cinese. Gli inquirenti sono infatti riusciti a inserirsi nelle dinamiche e nei canali di comunicazione usati dalla comunità orientale per scambiarsi informazioni, riuscendo così a raccogliere numerevoli dichiarazioni di testimoni, unite e confrontate con i contenuti delle denunce esporte dalle vittime, consentendo così di chiudere il cerchio sui responsabili. I due indagati, entrambi pregiudicati, per diverso tempo hanno vissuto in località Poggio Secco, nei locali dismessi della Croce Rossa. Uno di loro, il 39enne che è stato arrestato, è stato rintracciato nei giardini di via Papa Giovanni XXIII, dove si era spostato insieme al complice a seguito del blitz avvenuto nella struttura qualche settimana fa. Ma l'attività dei carabinieri ha consentito anche ulteriori risultati. Nel corso dell'indagine è infatti emerso anche il coinvolgimento in alcune rapine di altri due nigeriani di 25 e 33 anni che sono stati denunciati. Dopo tante fumate nere è arrivato il nome del nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Si tratta di Diana Toccafondi, che è stata eletta all'unanimità. Prato si merita un grande atto di fiducia. La lezione di Lapira ci aiuti ad agire per il bene comune. Vediamo la nostra intervista. È Diana Toccafondi, la nuova presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Toccafondi, che è chiamata a guidare la Fondazione per i prossimi quattro esercizi di bilancio, è stata eletta all'unanimità oggi pomeriggio dal nuovo consiglio di indirizzo nella sua seduta di insediamento. Vicepresidente è l'imprenditrice Raffaella Pinori, mentre il ruolo di consigliere vicario viene affidato a Massimo Mancini, consulente del lavoro, già presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro di Prato e del Palazzo delle Professioni. Per entrambi il voto è stato unanime. Vertice al femminile, dunque, per la Fondazione Pratese è unica in Toscana, con una donna alla guida. Diana Toccafondi è stata direttore della soprintendenza archivistica della Toscana e direttore dell'archivio di Stato di Prato. Studiosa di archivistica e di storia, fa parte del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici ed è presidente della Commissione per l'edizione nazionale delle opere di Giorgio Lapira. Per ringraziare il Consiglio, dopo l'elezione, ha fatto proprie le parole del Sindaco Santo. Il bene comune, ripeteva Lapira, non è la ricerca di sé, ma un grandissimo impegno che richiede sacrificio e servizio e molta verità, ha detto la neopresidente. Toccafondi si è detta certa che non mancherà l'apporto generoso di ciascun consigliere e delle grandi competenze che il Consiglio esprime al più alto livello. Attualmente il Consiglio di indirizzo è composto da 15 membri. Mercoledì 22 giugno l'Assemblea dei Soci della Fondazione aveva letto sette componenti di sua competenza, ne resta da eleggere ancora uno. Gli altri otto componenti sono stati indicati da enti e associazioni. Il Consiglio di indirizzo nel corso della prossima seduta, che si terrà il 15 luglio, procederà alla nomina dei sei componenti del Consiglio di amministrazione, che sarà presieduto dalla stessa Presidente e del Collegio dei Revisori. La Fondazione costituisce per tante realtà del territorio un riferimento importante, farne parte attiva è un impegno che merita le migliori energie di tutti noi, ha aggiunto la Vicepresidente Raffaella Pinori. E nei giorni scorsi la terra ha tremato ancora con epicentro a Prato. Un terremoto di magnitudo 2.3 è stato registrato e avvertito da tantissimi cittadini. Terremoto con epicentro a Prato lo hai sentito? Sì, stavo guardando la tv normalmente finché sento una scossa e perciò io mi allarmo, vado dai miei genitori e gli dico se l'hanno sentito, l'hanno sentito anche loro. È stato un po' perché non tutti i giorni si sentono le terremoti o comunque scosse. Sì, l'ho sentito e sembrava che il signore di sopra fosse cascato dalla sedia ma era un rumore diverso. E mi sono impressionata, sì, però ho guardato i miei mustolini e non si muovevano. L'ha sentito ieri sera il terremoto? No. Niente? Niente, eppure sto anche al quinto piano, però non ho sentito niente. Non c'era informazione, però io non ho sentito niente. C'è chi l'ha avvertita chiaramente, chi invece non ha sentito niente, eppure la scossa di terremoto di ieri sera aveva epicentro proprio a Prato. Dopo i fenomeni sismici delle settimane scorse, tutti originatisi nella zona dell'impruneta, la Terra è tornata a tremare ieri alle 23.17. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, si è trattato di una scossa di magnitudo 2.3. Per l'esattezza l'epicentro è stato rilevato a un chilometro a sud dal centro cittadino, a una profondità di 10 chilometri. Non ci sono stati danni a cose e persone. Una scossa cittadina, la possiamo definire. Niente di preoccupante, si tratta di un piccolo evento sismico, 2.3 di magnitudo, per cui siamo veramente poco al di sopra della soglia della crescettibilità. Dobbiamo aspettarci altre scosse nei prossimi giorni? Ma per una scossa così piccola e in caso isolato, per il momento direi di no. Erano molti anni che l'Istituto Geofisico non registrava un sisma con l'epicentro a Prato. Bisogna risalire indietro a qualche anno fa, non certamente recente. Di solito gli ultimi eventi che abbiamo risentito a Prato avevano tutti l'epicentro fuori dall'area cittadina della nostra provincia. Mi viene in mente un episodio di oltre dieci anni fa, un po' già alla Malva, ma siamo già oltre il Monte Albano, quindi sempre in provincia di Prato, ma nella zona che guarda la Valle dell'Arno. Una guida tutta al femminile per l'opera Santa Rita. Il cambio al vertice è stato annunciato nel giorno della presentazione del bilancio sociale 2021. Renza Sanesi è la nuova presidente. Circa 900 utenti accolti nei centri educativi o assistiti negli ambulatori o raggiunti tramite i servizi domiciliari. 200 dipendenti e ricavi che hanno superato gli 8 milioni di euro, con un utile di 13.000 euro reinvestiti poi nei servizi. Sono i numeri del bilancio sociale 2021 della Fondazione Opera Santa Rita, presentato nella sede di via Armando Diaz nel complesso ex Cappuccini. Per l'ente educativo e di assistenza dei più fragili, fondato nel 1934 da Virginia Frosini, si è trattato di una occasione particolare, perché ha coinciso con la fine del mandato di Roberto Macri come presidente, un incarico durato 17 anni e durante il quale il Santa Rita è cresciuto nei numeri e negli interventi nei confronti dei minori a rischio, dei disabili, delle mamme in difficoltà e dei richiedenti asilo. Se mi sento di lasciare uno spunto a quello che potrebbe essere un modo di operare anche in prospettiva, è proprio questo, rafforzare questa sinergia fra pubblico e privato sociale, terzo settore, e favorire il più possibile da un punto di vista dell'istituzione una capacità di reazione che sia più adeguata a quello che i tempi richiedono. Come abbiamo anticipato due settimane fa, sarà Renza Sanesi a prendere le redini del Santa Rita, mentre il ruolo di direttore è stato affidato a Nicoletta Olivi. Entrambe vantano una lunga presenza all'interno dell'ente, una direzione dunque tutta al femminile e nel segno della continuità, come ha osservato il Vescovo Giovanni Nerbini. Ricordiamo che la nomina del Consiglio di Amministrazione del Santa Rita e del Presidente spettano da statuto all'ordinario diocesano. Nel suo primo intervento da Presidente, Renza Sanesi ha individuato alcune criticità che il Santa Rita dovrà affrontare nell'immediato futuro. Le lunghe attese nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni convenzionate, da oltre otto mesi l'ente vanta un credito di oltre 2 milioni di euro da riscuotere e la difficoltà di garantire un'assistenza di qualità ai propri utenti se le gare per l'affidamento dei servizi si basano solo sulle offerte al ribasso. Impianti sportivi. La palestra di Via Roma sarà ristrutturata grazie ai fondi del PNRR, lo ha annunciato l'assessore Vannucci, ospite di Parliamoci Chiaro. È importante che chiunque amministri entri in questa mentalità, che lo sport è importante, se no ce lo diciamo e basta, però se le basta non si risolvano le cose. È per questo che da parte mia ho cercato a suo tempo di sollevare le situazioni più possibili, cercare di renderle pubbliche più possibili per poterne parlare, per poter cercare di far passare il messaggio e non di dirselo sempre in separata sede che lo sport è importante, però per fare sport ci vuole strutture valide. L'assessore allo sport Luca Vannucci, ospite ieri sera a Parliamoci Chiaro, ha rivendicato il lavoro che sta portando avanti, che guarda al futuro dell'impiantistica sportiva attraverso una serie di investimenti a medio e lungo termine, perché non basta, anche se è necessario, intervenire soltanto per mettere delle toppe a un patrimonio ormai obsoleto. Il progetto di punta è senza dubbio quello della piscina olimpionica di Olo, ma ci sono altri interventi che l'amministrazione comunale è pronta a realizzare grazie ai finanziamenti del PNRR. Tra questi la ristrutturazione di tutti i locali della palestra di Via Roma, fino a poco tempo fa utilizzata dalla pugilistica pretese, che per il momento si è trasferita in alcuni spazi di proprietà del comune recuperati in via convenevole. Quando nel 2019 si è inserata questa giunta, dove la pugilistica s'allenava in via Roma, piano superiore, era stato preso la decisione di chiuderlo, di farci il magazzino. Se no, ma perché faccio il magazzino? C'è già una palestra sotto. Cioè cerchiamo di recuperare e di rendere agibile al 100% la palestra sopra e è una palestra in più fuori dall'ambito scolastico che abbiamo. E questo ci ha permesso con il PNRR di poter avere un finanziamento di 400 mila euro per poter rimettere questa palestra. Grazie ai fondi del PNRR saranno realizzati anche una serie di campi in sintetico, non soltanto per il calcio. Il campo sintetico è il viaccia, il viaccia calcio. Chi ha una necessità di spazi importanti perché c'è una scuola calcio e ha un campo a 11 in terra. Campo centrale, assessore. Campo centrale. Verrà rifatto nuovo il sintetico di maliseti, maliseti calcio, perché anche questo è finito. Non il centrale in questo caso. No, quello che è già sintetico, viene rifatto sostituzione perché questo era finito e stiamo lì anche con l'omologazione da parte della federazione. Verrà finito bene, sì. Verrà fatto per la prima volta un campo sintetico per il Rebbi. In Viale Galilei, al Montano, verrà fatto il campo sintetico per il Rebbi. È la prima volta a Prato che c'è un campo sintetico per il Rebbi. Sempre nel PNRR viene rifatto tutto l'impianto di illuminazione ai Fantacini e a Iolo, che è il campo più grande che abbiamo sul nostro territorio. Aveva problemi per giocare in notturna perché le illuminazioni purtroppo anche queste sono datate e a qui punto sarà un campo anche per le notturne importante sul nostro territorio. Sabato 2 luglio sono iniziati i saldi estivi e noi siamo andati a vedere come sono andati. Da questa mattina a sabato 2 luglio al Via e saldi estivi anche a Prato. Secondo le stime di ConfCommercio, ogni famiglia spenderà dai 170 ai 200 euro circa per fare acquisti. Una cifra in leggeramento rispetto allo scorso anno grazie anche alla ripartenza del turismo. Ecco qua il mio primo acquisto stamattina e ora vado un po' a vedere altri negozi, cosa ci offrono. Cosa ricerca in particolare? Beh, un po' di roba per andare in vacanza, costumi, vestitini leggeri e poi qualcosa un po' più importante, diciamo, se riesco a trovarla. Quali articoli spera di acquistare a saldo? Cosa ha già comprato? Ho già comprato dell'intimo, alcuni abiti e delle canotte, non penso di acquistare altro, forse anche delle scarpe. Avete aspettato i saldi per comprare qualcosa? No, non in particolare, ho portato mia moglie e mia figlia a fare un po' di acquisti, tanto per ingannare il tempo. Hai già acquistato qualcosa? No, inizio stamattina. Cosa sei alla ricerca di qualcosa in particolare? I saldi estivi potranno rappresentare un'occasione di ripartenza per l'economia locale, ma non mancano le preoccupazioni di Confesercenti, che aspettava la data di saldi a fine mese. Secondo Confesercenti Prato, un arco temporale di 60 giorni farà sì che i clienti non percepiscano la necessità di affrettarsi ad approfittare delle occasioni a saldo. Una data, questa del 2 luglio, che fa molto discutere. Andiamo a scoprire cosa ne pensano i commercianti. I saldi bene ora, perché comunque la stagione deve un po' ripartire bene e quindi i saldi benissimo ora, il periodo giusto. Speriamo dopo, insomma, il periodo che abbiamo passato un pochino difficile di risollevarsi un attimino e aiutare, insomma, la gente a fare acquisti nuovi. Gli articoli di punta quali saranno? Per ora più o meno si va su tutte le cerimonie, quindi abiti, giacche, camicie. Poi ora c'è tanto il periodo del lino, quindi comunque pantalone, giacca, camicia in lino, molto in tendenza. Sicuramente articoli, diciamo, in lino, cosone, freschi per l'estate, quindi anche comodi, diciamo, un pochino più da tutti i giorni che comunque anche rivestano per la sera. È stata un'annata abbastanza difficile, quindi si spera che già da stamattina si vede un attimino un po' più di movimento, quindi si spera sempre meglio. Sperate in maggiori acquisti rispetto alla scorsa stagione? Sì, questo si spera. C'è stato il caldo prima, quindi diciamo le persone si sono mosse un pochino prima e comunque noi siamo qua, le occasioni ci sono, lo aspettiamo. Questa era l'ultima notizia, il telegiornale Prato 7 torna domenica prossima. Io intanto vi auguro una buona serata, arrivederci. Grazie.